Prima il terremoto ed ora il coronavirus. La Regione Marche, anche per l'emergenza sanitaria, può contare sugli albergatori e sulla loro collaborazione. Sono 627 le camere distribuite in 13 strutture, individuate grazie al sistema federalberghi e confcommercio, esparse per tutto il territorio. Saranno disponibili anche grazie ad un accordo quadro firmato in Regione ad accogliere coloro che sono risultati positivi al Covid-19, ma che hanno la necessità di vivere in isolamento fiduciario, sotto sorveglianza sanitaria e lontano dai propri familiari, per ridurre in questo modo i contagi al minimo. Tre sono gli hotel individuati ad Ancona, due nel Macesartese, tre in provincia di Fermo, mentre due sono le strutture candidate nella provincia di Pesaro Urbino, una di Pesaro situata in zona mare ed una di Fano. Quella che vedete alle mie spalle è l'entrata dell'hotel Plaza di Fano, una delle due strutture che in provincia di Pesaro Urbino si sono candidate come Covid Hotel per ospitare i positivi al Covid-19. Ispezionato da Asur e Protezione Civile Regionale lo scorso sabato mattina, il Plaza risulta idoneo per ospitare a partire dai prossimi giorni i primi contagiati nelle 16 stanze messe a disposizione. È un'esperienza nuova praticamente, non è il cliente che praticamente prende e viene insomma a un certo punto uno degli altri servizi e lui si gestisce da suo e noi gestiamo sia le pulizie sia la ristorazione e tutto il resto. Qui praticamente noi consegniamo dei pacchetti e lì c'è quello che devono mangiare, quindi tutta roba sicillata, tutta roba già preconfezionata. La ristorazione che qui prevede prima colazione, pranzo e cena, le camere vengono fatte direttamente dagli ospiti, praticamente le cose noi dobbiamo solo provvedere a portare via la biancheria sporca, la pulizia è delegata agli ospiti, quindi non è che noi possiamo, le consegniamo tutti al di fuori della porta per vedere che queste qui non escono fuori dalla camera, che devono rimanere sempre nella camera per tutto il periodo. Il compenso giornaliero stabilito ammonta 30 euro più IVA se la stanza resta vuota, mentre è di 55 con IVA inclusi la colazione, il pranzo e la cena, che però non saranno preparati in hotel. Un'offerta, dice Calamandrei, che non è così invitante, considerando che un pasto self-service costa ad un albergo circa 13 euro e che rimanere nei 25 euro e trovare un'azienda che fornisca le pietanze in contenitori sigillati per sole 16 persone è piuttosto difficile. C'è anche quello un problema, insomma, anche perché deve rientrare in questi prezzi. è possibile, se rientriamo, c'è una detta che mi viene a fare un po' altra cosa per, non so, per 16 persone. È da vedere, insomma, se è possibile. Io non so, io anche perché ho chiesto già due volte, ho fatto due telefonate, ma non è andata ancora una risposta, quindi potrebbe essere un problema. La Asur assisterà agli albergatori durante tutta la permanenza, sia sorvegliando gli ospiti dal punto di vista sanitario che fornendo indicazioni e formazione ai dipendenti.